Buongiorno, intanto benvenuta alla nostra ospite che ringraziamo per aver aderito all'invito di partecipare a questo incontro. È la quarta volta che io partecipo alla conclusione del corso, il quarto corso che è stato organizzato per merito della professoressa Leccardi che dedica a questa iniziativa un impegno notevole come delegata del Rettore ma come suo, io credo, convincimento profondo. La devo ringraziare perché tutto quello che fa lo fa con una passione che è veramente ammirevole. E questo corso è quasi coccolato, è quasi circondato dal suo impegno ma anche dal suo affetto perché lo fa con veramente compassione. E devo dire che il Senato accademico in questi anni ha sempre accolto la proposta di istituzione del corso con ampio consenso. Tutte le facoltà in pratica in qualche modo danno un contributo all'organizzazione dell'iniziativa. Il numero di frequentanti è sempre sostenuto, abbiamo già anche una pattuglia non proprio sparuta anche di uomini che si è aggregato alla maggioranza femminile, come è naturale che sia per un corso di questo genere. Quindi non possiamo che essere soddisfatti. Mi diceva la professoressa Leccardi che fra l'altro le attività formative sono anche particolarmente impegnative e che i crediti che vengono riconosciuti ai partecipanti sono sudati e guadagnati. E questo devo dire che fa onore ai partecipanti e alle partecipanti perché quasi tutte sono persone impegnate, in gran parte sono lavoratrici o lavoratori, studentesse, quindi che hanno altri impegni ma che non si sottraggono all'impegno che questo corso comunque richiede. Segno dell'interesse che è portato a questo argomento. Questo argomento che io vorrei utilizzando delle parole che sono state utilizzate a livello dell'Unione Europea per introdurre il piano quinquennale di attenzione alla parità dei diritti è un argomento che rappresenta un diritto, rappresenta un valore e rappresenta una necessità. Un diritto perché la pari opportunità tra i generi sembra strano che si debba ricordare che è un diritto ma è un diritto dell'essere umano come tale la validità di questo concetto. È un valore perché lo dobbiamo difendere, perché in esso crediamo e questo porta alla società che lo accetta qualcosa di più. è una necessità perché se si vogliono raggiungere gli obiettivi della crescita economica, del miglioramento della qualità della vita e della crescita culturale, la parità tra uomini e donne è una esigenza fondamentale. Quindi diritto, valore, esigenza. Su questo credo che tutto quello che si può dire, io credo che queste tre parole sono racchiuse. Per quanto riguarda il perché dell'università, il perché dell'università è perché nell'università questi argomenti si studiano e si dibattono ed è giusto che vengano trasferiti direttamente ai giovani, anche non studenti, anche persone che frequentano l'università per altri motivi. È giusto che l'università si faccia portatrice di questi concetti perché la ricerca, l'approfondimento delle conoscenze, la ricerca della verità, la ricerca dei comportamenti, non solamente degli aspetti tecnico-scientifici, ma anche dei comportamenti socio-economici sono qualcosa che noi dobbiamo studiare, approfondire, noi lo possiamo fare, siamo fortunati di poterlo fare, è un lavoro il nostro che è sicuramente estremamente appagante, ma lo possiamo fare perché la società ci permette di farlo e pertanto dobbiamo restituire alla società quelle che sono appunto le conquiste di questo studio e tra le conquiste di questo studio c'è anche il riconoscimento che qualunque disparità, e non solo di genere, ma disparità legate alla cultura, alla civiltà, alla religione, alle proprie idee, sono qualcosa che è contrario allo spirito stesso dell'università, dell'approfondimento della conoscenza, del vivere civile. Questo l'università lo deve alla società che permette all'università di poter compiere il proprio lavoro. Noi all'interno dell'università non possiamo dire che esiste la completa parità, perché abbiamo problemi, ne siamo consapevoli, ma cerchiamo comunque di affrontarli in varie forme, adesso non c'è tempo per approfondirle tutte, ma in varie forme, con vari istituti, perché cerchiamo di fare in modo che noi per primi si dia l'esempio che le cose devono cambiare, possono cambiare, stanno cambiando. Certamente il rapporto, oggi uno dei problemi, che era il problema della parità per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda la scolarità, all'università la percentuale ormai di studentesse supera in molti corsi il numero degli studenti maschi. Per quanto riguarda quindi questo aspetto, direi che le cose sono nettamente migliorate nel tempo. Per quanto riguarda all'interno della comunità, invece, dei docenti, questo ancora non è, la parità non esiste in maniera perfetta. All'interno dell'Unione Europea il numero di professori nella università, il numero di professori di sesto femminile è solo il 32% del totale. e noi anche qui con le differenze tra settore e settore, quindi c'è molto ancora da fare. Nel nostro piccolo organico, negli anni, c'è stato un momento che noi abbiamo avuto su otto presidi quattro presidi di sesto femminile e quattro maschile. è stato il punto di maggiore eguaglianza che abbiamo ottenuto, ma tuttora la presenza in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione della parte femminile è sufficientemente, direi, accettabile. Leggevo recentemente sul giornale che in Svezia, che è estremamente avanzata per quanto riguarda gli aspetti della parità, poi sapete che in Svezia l'iscrizione all'università è al numero chiuso, è al numero programmato. E ci sono delle quote. Il 50% è riservato al studentesse e il 50% a studenti. Naturalmente questo, da un qualche punto di vista, non è esattamente corretto perché potrebbe darsi che in una selezione il 100% di migliori potrebbe capitare che fosse femminile e il 100% maschile. Ma la Svezia ha seguito questa strada. Il 50% dei posti per l'iscrizione all'università è riservato alle prime in graduatoria di sesso femminile e il resto a quelli di sesso maschile. Bene, nelle ultime selezioni in graduatoria c'era più del 50% di sesso femminile e quindi adesso il problema è come fare perché in futuro saranno forse gli uomini che dovranno invocare la quota per poter continuare a sopravvivere. Ma speriamo che questo non sia più necessario in futuro le quote ma si possa invece contare su una vera parità senza necessità di forzare. Un altro dei punti fondamentali nel programma dell'Unione Europea per quanto riguarda la parità tra i sessi è proprio quella legata alla governance. cioè alla presenza della parte femminile nella gestione delle politiche nazionali, delle politiche locali. La presenza anche in questo caso dell'aspetto femminile, delle competenze femminili viene ritenuto assolutamente necessario per poter assicurare anche la concordia sociale e il raggiungimento degli obiettivi economici che l'Unione Europea si è data. Quindi noi diamo un piccolo contributo, questo piccolo contributo però ne siamo molto orgogliosi. Siamo molto orgogliosi perché fin dall'inizio della fondazione di questa università ci siamo mossi lungo questa linea, continuiamo a muoverci lungo questa linea abbiamo appena approvato in Senato accademico un nuovo documento sui comportamenti etici in particolare per quanto riguarda i propri comportamenti nei confronti della componente femminile della nostra università, studentesse, personale tecnico-amministrativo e docenti. quindi noi continuiamo perché ci crediamo e ci crediamo perché pensiamo che sia un valore aggiunto quindi sì un diritto, sì un valore ma anche una necessità. Grazie.